davanti a tante persone. Io faccio parte di quella schiera dei 250 precari personale ATA che da due anni con i tagli sono rimasti fuori dopo otto anni di incarico annuale. Pensavamo che con il passare degli anni si desse sempre più importanza e valorizzazione alla scuola pubblica dove tutti i ragazzi nella loro fase di crescita più importante avrà essere pari diritti e pari opportunità per diventare i veri uomini i cittadini del futuro. Invece stiamo assistendo inermi alla distruzione totale della scuola pubblica e della società progetto iniziato nel 2008 dall'allora ministro Germini e portato avanti dall'attuale ministro Profumo. Con l'ossessiva frase siamo in piena crisi. Adesso ci viene da pensare ma forse sono proprio i tagli alla scuola a far risollevare la nazione o tutti gli sprechi che ci saltano agli occhi ogni giorno stipendi dei dirigenti, stipendi dei parlamentari, pensioni d'oro o quanti euro si riscitebbero a risparmiare di tanti peri sprechi per accadirsi proprio al diritto sul proprio diritto allo studio, alla cultura e alla ricerca. Noi chiediamo che si investa seriamente nel sistema scolastico sia nelle strutture sia per il personale. Solo in questo modo si potrà garantire che l'esperienza scolastica sia per tutti i nostri figli un'esperienza positiva di crescita e formazione che li aiuti realmente nella vita e nelle scelte che dovranno affrontare. Solo così si potrà garantire che la scuola faccia maturare la consapevolezza di essere cittadini di uno Stato democratico. La nostra provincia in questi anni sta subendo tagli ingiusti come alla scuola e alla sanità, due rami molto importanti per la società. Come si può pensare di far partire l'economia mettendo l'agenda a 50 anni fuori dal mondo del lavoro e quale prospettiva diamo ai nostri figli? Perché gli studenti della nostra provincia devono pagare un prezzo così alto? Cioè quello di non avere nessuna prospettiva di entrare nel mondo del lavoro prima perché la disoccupazione giovanile in Erpini è molto alta e poi perché le nostre scuole mancano di competitività rispetto al nord. Tempo pieno, laboratori, scuole professionali che funzionano al meglio affinché al termine del quinquennio diano opportunità di lavoro. Parliamo di minori o di adolescenti che hanno bisogno di essere seguiti in ogni attimo della loro giornata. Alle più alte cariche istituzionali del territorio chiediamo di far crescere le nostre scuole dando le giuste risorse economiche per docenti e ATA affinché possiamo ritornare tutti a svolgere il ruolo che ci è stato dotto dopo anni di incarico annuale. Uniamoci insieme per un unico obiettivo per una scuola migliore, un luogo dove si cresce, si impara e si forma l'uomo del domani. La parola adesso a Salvatore D'Amato in rappresentanza degli operali di risbusse della Fiat Iveco di Grotta Minarda a Flumeti. Buonasera a tutti. Prima di incominciare, questo qua voglio rivolgermi a voi tutti che state nelle scuole. Per le scuole private si trovano i soldi. Questo governo ha trovato 280 milioni di euro per le strutture privati. Per le strutture pubbliche non se ne trovano. E questo qua è il governo mondiale. Poi la cosa che mi dispiace, prima di iniziavo, la cosa che mi dispiace di più da parte vostra, diciamo sì, dei presidi, delle scuole, non abbiamo avuto nessuna solidarietà in effetti. Davanti allo stabilimento sono ridotti tutti, di tutti, hanno venuto a fare le passarelle, i politici, però la solidarietà da parte, diciamo sì, della gente che è buona non ce n'è stata. E questo qua veramente è depurrevole. Poi andiamo avanti. Io sono un operai che ho lavorato in quell'azienda a 33 anni e dalla mattina alla sera ci hanno chiuso. Il signor Marchionne, un anno prima di chiudere, aveva fatto un investimento di 8 milioni di euro, i famosi 15 miliardi in una volta. E sai che cosa ci hanno detto al Mise? Abbiamo sbagliato. E questi sono gli imprenditori. Questa è la Fiat in Italia. Quando dice la fabbrica Italia, ma che fabbrica Italia? La fabbrica Italia. Chiude e va all'estero, però l'importante è che se ne va e non torna più, perché di questi imprenditori ne possiamo fare a meno noi. Noi vogliamo lavorare. Noi di lì risposto vogliamo lavorare. Non vogliamo essere assistiti. Noi adesso ci pagano in gas di integrazione. E le pulme due che le vanno a comprare e le vanno a comprare all'estero. Perché la Fiat c'ha due stabilimenti. Uno ce l'ha in Francia e un altro ce l'ha nella Repubblica cieca. Nella Repubblica cieca. È giusto perché là il costo del lavoro costa di me. Però in Francia il costo del lavoro è 4 euro in più con fronte a noi. Però intanto in Francia il governo sa così. Se tu vuoi commercializzare i pulmi, ma quale devi costruire qua? Invece noi né Berlusconi né Mondi ha detto queste cose. L'ultima volta che ci siamo stati a Mise. Il sottosegretario di Vincenzo ci ha detto queste testuali parole. Che lo stabilimento Valle Ufra perché era l'unico in Italia che costruiva autobus. Era strategico per l'Italia. Però l'ultima volta che ci siamo stati non c'è stato. Allora ci stanno prendendo tutti quanti in giro. Il signor Marchionne l'anno scorso ha guadagnato 38 milioni di euro. 38 milioni di euro. E io devo vivere con 800 euro al mese. A me con due figli che devono andare all'università. Questa è la disuguaglianza. Perciò vi dico anche a voi. Svegliamoci insieme. D'Irpinia. D'Irpinia. Un popolo di 400 mila abitanti. 80 mila disoccupati. E' chiusa l'Irisbus. Chiuderà l'FMA. Hanno chiuso i tribunali. Chiuderanno le scuole. Poi si parla anche del 118. Ma quando ci indegniamo? A chi aspettiamo? E' inutile che ci lamentiamo. Dobbiamo essere uniti tutti a lottare. Perché non ci pensa nessuno. E ve l'ho detto il fatto che i soldi per la scuola privata l'hanno trovato i soldi. Per quella pubblica non ce ne sono. Perché ci vogliono ignoranti. Questo è il discorso. Io ho tante di quella rabbia in corpo. Perché veramente vedo tante di quei supplusi. Quando siamo stati ultimamente al Quirinale. A protestare. Ci hanno arrestato. Ci hanno portato in questura. Come delinquenti. Dove là noi stavamo manifestanti. Perché non assumiamo il nostro diritto. E' un diritto al lavoro. E ci hanno arrestato. Questa è la democrazia di Italia. Nemmeno a protestare per un diritto. Perché la Costituzione. Che dice il primo artista? La Costituzione è fondata sul lavoro. Allora un lavoro è un diritto di tutti. Gli ho detto. Non trovo le parole. Perché veramente abbiamo girato di tutto. Siamo stati l'altra sera anche dal procuratore aggiunto in Croia. A vendicare. Abbiamo esposto. E lui ha detto. Dove non c'è sta lavoro c'è sta miseria e c'è sta delinquenza. E allora perciò gli dico. Mi rivolgo a questi politici. Che dobbiamo fare? Non vado i sacrifici da parte di tutti quanti. Però a cominciare da loro. Ma lo sai quanto ci costa? Andò è la Camera dei Deputati. 158 mila euro all'ora. Ogni ore che passa. Si consumano 158 mila euro. Il Senato ci costa 572 milioni all'anno. Il Presidente della Repubblica. Ci costa 230 milioni. 12 volte di più di quello della Germania. Perché non le fanno prima loro i sacrifici. E poi lo facciamo insieme perché è giusto. I sacrifici nel momento di Cristo bisogna farli tutti. Però in giusta misura. Io finisco perché non voglio portarla per la lunga. Perché veramente la rabbia dura che ci abbiamo in corpo noi. veramente che è talmente, talmente, talmente grossa che... Perciò vi saluto e grazie. 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 Grazie.